Un uomo di 48 anni è morto alla stazione Termini di Roma. Il fatto risala ieri sera, secondo una prima ricostruzione dei fatti. Il treno stava per transitare in stazione al binario 9 quando il convoglio ha investito l'uomo. La terribile scena è avvenuta davanti a decine di passeggeri che hanno assistito al terribile dramma. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto si apprende, al momento sembra si sia trattato di un incidente dato che, secondo alcuni testimoni, sembra che l'uomo stesse cercando di recuperare la sua valigia che era rimasta incastrata sui binari.